Buona Pasqua della Settimana Buona Pasqua della Settimana a tutte le nostre amiche, ai nostri amici, a te, ai nostri carissimi supertecnici che ci aiutano ogni domenica ad andare in onda, dobbiamo sempre ringraziarli Grazie a te soprattutto padre Ernesto Allora oggi ci viene dato il comandamento dell'amore dei propri nemici, un po' difficile per noi poveri comuni mortali Direi che forse siamo nel cuore non solo del discorso della pianura come ce lo accenna il nostro carissimo Luca, ma soprattutto anche Matteo Potremmo dare un titolo oggi, quella dell'espressione del testo Siate misericordiosi come il padre E la misericordia del padre si rivela proprio verso i nemici, verso chi lo rifiuta Dio non abbandona mai i suoi figli Davvero è una sicurezza da parte tutta nostra Certo questo ci fa capire la responsabilità Per cui se Dio ama anche chi lo combatte, chi lo contrasta, chi lo rifiuta Evidentemente poi il problema è del rapporto, la relazione Ricordo che siamo ancora all'interno del discorso della pianura Quello che abbiamo già accennato domenica scorsa Oggi siamo nella parte centrale del discorso Siamo al capitolo 6 di Luca, ai versetti 27-38 Tutta questa parte centrale Luca la dedica al tema dell'amore verso il prossimo E in particolare verso il nemico Ma dobbiamo ricordare quanto sia importante questa accentuazione Perché nella religiosità ebraica il prossimo non è come lo intendiamo noi Il prossimo è sempre all'interno del proprio gruppo, del proprio popolo Del gruppo di appartenenza potremmo dire Gesù che cosa fa invece? Ecco l'universalità di Luca Luca dice che Gesù rende universale questo amore verso il prossimo E' aperto a tutti Ciò che propone Gesù Cristo oggi si differenzia anche Non solo rispetto alla religiosità ebraica Ma anche rispetto alla tradizione greco-romana Perché per questa tradizione era importante la reciprocità Il testo del Vangelo ci dice invece che anche quando non c'è reciprocità Tu devi amare il nemico Ecco perché il testo di oggi Proprio i primi due versetti I versetti 27-28 del capitolo 6 di Luca Si apre con quattro imperativi Che scandiscono proprio il comando Amate Fate del bene Benedite Gesù suggerisce tre comportamenti pratici Che potremmo definire di non violenza Oppure di non resistenza Amate Fate del bene Benedite In un certo senso si tratta di porgere l'altra guancia Non negare la tunica a chi ti chiede il mantello Da a chi ti chiede e a chi prende le tue cose Non richiederle indietro Ecco tutto questo Luca lo connenzi in quella regola d'oro Che riprende anche lui come in Matteo Al capitolo 6 versetto 31 Come volete che gli uomini facciano a voi Ugualmente fate voi a loro Quindi Gesù davvero è molto forte Con quei quattro imperativi Che poi si chiudono in questa regola d'oro Subito dopo Gesù solleva tre obiezioni Che poi fanno riflettere Ecco Gesù non solo dà delle indicazioni Ma spesso quasi sempre fa delle domande Che ci portano a riflettere Domande che servono a scardinare la nostra logica umana Perché il Vangelo è paradossale Paradossale Cioè oltre Lo dicevamo domenica scorsa Le beatitudini sono paradossali Perché ci presentano un comportamento Che scardina la logica umana Gesù fa queste domande Se si ama chi contraccambia il nostro amore A che cosa serve? Quando noi amiamo una persona Perché ne siamo già amati Beh anche le peggiori persone fanno così Anche i peggiori delinquenti amano i propri amici E poi dice Gesù Se fate del bene Se si fa del bene A chi te ne può fare? Che senso ha? Tu lo fai perché cerchi il contraccambio? Tu lo fai nella speranza che l'altro poi Possa farti recuperare quello che hai speso? E addirittura una terza domanda E se si presta a chi si spera Che poi possa ridare in cambio? A che cosa serve? Molto forte questa domanda A che serve? A che cosa serve? Che cos'è tutto questo comportamento? Dice Gesù Tutte queste azioni Sono già compiute dai peccatori Dunque A che serve questo comportamento? Non fate altro che Ricadere nella logica umana Tutti usano quella logica Io do a chi mi dà Ricambio a chi già mi ha dato Si ricade nella logica Direi banale Quella del mondo E allora Gesù ci riporta Ad altre conclusioni Dice così Amate invece i vostri nemici Fate del bene Prestate senza nulla sperare La vostra ricompensa sarà grande Voi sarete figli dell'altissimo Perché egli è benevolo Verso gli ingrati e i cattivi Perché è così forte Questa conclusione? Che cosa vuole dirci Gesù tutto sommato? Ci chiama ad assumere Uno stile di vita Che innanzitutto è contrario all'ostilità Non usare mai la stessa moneta Amare gratuitamente Fino ad amare il nemico Senza aspettarsi nulla Serve a spezzare ogni logica Di violenza, di vendetta Serve a rompere definitivamente Quella logica della reciprocità Doniamo per poi aspettare il contraccambio Do ut des Io do perché mi aspetto Questa è la logica terribile Del contraccambio Faccio del bene solo Da chi mi aspetto del bene Ecco Gesù ci chiede davvero Di andare oltre Perché Dio è oltre questa logica La sua misericordia è oltre questa logica Ecco perché Gesù suggerisce Tre comportamenti Che non vanno presi Come segno di passività Tutt'altro Sono tre atteggiamenti Tre stili di vita Che sono una sorta di provocazione A superare ogni violenza Tra l'altro assumono anche un valore profetico Denuncia senza le carie offese A chi continuamente compi i maltrattamenti Ecco lui dice Che dobbiamo andare oltre Siamo invitati ad andare oltre Il testo è davvero molto bello Siate misericordiosi Amate i vostri nemici Siate misericordiosi Come il padre vostro è misericordioso Non giudicate Non condannate Perdonate E sarete perdonate Date E vi sarà dato Una bellissima espressione Ecco allora Cosa vuole dirci Gesù Anche se tu Hai delle offese Dei maltrattamenti Rompi quella Violenza che ti viene fatta Spezza quella catena Terribile Che ti viene data In questo modo tu sei Davvero discepolo Perché si è figli dell'altissimo E a immagine di Cristo Quando davvero Noi andiamo oltre questa logica Perché Gesù ci offre Questo tipo di ragionamento E di stile di vita Lui che è Il misericordioso Per ricordarci che solo l'amore L'amore ci umanizza Ci fa crescere Solo se amiamo davvero Noi ci umanizziamo Ecco perché Gli ultimi imperativi Nei versetti finali Del testo di oggi I versetti 36 e 38 Siate misericordiosi Non giudicate Non condannate Perdonate Date Sono ben cinque Tutto questo Porta a ricevere Una misura Che sarà Traboccante Che bella Questa immagine Finale Che racconta Di questo strumento Che è come un boccale Di legno Il moggio Dove Si mette dentro Questa misura Poi la si pigia La si scuote Così che Si assestino Le granaglie Che sono dentro E creano spazio Così da avere ancora spazio E fanno In un certo senso Un effetto maggiore La parola dentro di noi Fa spazio Quando il cuore è sincero Mi ricorda Il Salmo 1 Quando dice Medita Il vero credente Non si uniforma La logica del mondo Dice tre volte Non 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 È il Salmo Che abbiamo Celebrato proprio Domenica scorsa Ma Medita la legge Del Signore Quel verbo È molto bello Si dice Aga Aga significa Canticchiare Quel canticchiare Sottovoce La parola di Dio È come Il moggio In cui C'è Si sono le granaglie Dentro Poi Lo si scuote Lo si sbatte In modo che Tutto viene Assestato E crea spazio Che meraviglia Questa immagine Il Salmo 1 Al versetto 2 Quindi quando la parola Viene davvero Meditata da noi Crea spazio Ci dà Questo cuore Sincero Perché Dio Nell'amore Non potrà mai Essere vinto E ci chiede Di vincere Con l'amore È impegnativo Certo Come dici tu Ma è questa La strada Per umanizzarci Noi dobbiamo rompere Quelle catene Di violenza Amando È un po' L'episodio Che succede Al nostro Francesco di Assisi Con il lupo di Gubbio Quando lui Gli va incontro O con i fratelli Briganti Quando I frati Spogliati dai briganti Si lamentano Con Francesco E Francesco Fa preparare Dei bei pacchi Di dono Per tutto quello Che hanno Quel poco che hanno E glielo fa portare Si racconta Che qualche giorno dopo I briganti Sono convertiti Da quell'amore E chiedono Di seguirlo Nella via Del Vangelo Il bene Non può fare altro Che bene L'amore Fa bene Innanzitutto A chi lo dona E poi Alle persone A cui è donato Ecco allora Lo stile di vita Siate misericordiosi Come misericordiosi Il padre È il nostro programma È questo Che il Vangelo Oggi Ci offre Come via luminosa Per umanizzarci E dunque Santificarci Insieme agli altri Eh sì Di Gesù si può dire Qualsiasi cosa Tranne che non abbia Conosciuto la cattiveria Quindi detto da lui Il bene Trionfa sul male Attraverso l'amore È una certezza Hai ragione Gesù non ha mai risposto Alla cattiveria Anzi Sulla croce Proprio il Luca Chiede al padre Di perdonare Perdonali Non si rendono conto Di quello che fanno Ecco Il Gesù misericordioso Il Luca Arriva A perdonare Sulla croce È veramente beato Quel cuore Che sa perdonare Che sa amare Che non prende in sé Quel male Io direi Anche a livello Proprio Antropologico Umano Lo stile del Vangelo Ci aiuta a capire Che se una persona Io dico sempre Qualche volta In confessione Alle persone Se uno ti viene A depositare Un sacco di Spazzatura sotto il letto Che è mal deodorante Tu che fai Ti alzi La togli Lavi Disinfetti Apri le finestre Quando ci vengono A depositare Cattiveria nel cuore Perché tenercele Perché rispondere L'unica cosa Per fare pulizia È la misericordia È l'amore Tutto pulisce Tutto copre Tutto spera Lo ricorda lui Il grande Paolo Maestro di Luca Proprio nell'inno All'amore In prima corezza Bene Abbiamo un giusto invito Un giusto monito Per oggi Cerchiamo di viverlo A pieno Così come ci ha indicato Il Vangelo Grazie padre Ernesto Noi ci ritroviamo La prossima settimana Grazie a voi E auguro Per essere tutti Misericordiosi Come il padre Grazie Grazie di cuore Shalom Shalom Misericordiosi Grazie a tutti Grazie a tutti